Una breve diretta soltanto per commentare quello che un po' ho avuto modo di vedere sbirciando tra i social, vedendo i commenti a quello che ormai è chiaro essere il quesito del grullo, non del grillo, è del grullo, perché adesso tutto ha una logica, tutto rientra, cioè quando ti pongono una domanda del genere vuol dire che ti stanno già considerando un cretino, cioè stanno dicendo guardate voi siete stati cretini a fare i banchetti, a impegnare il vostro tempo dietro un sogno, a pensare che il movimento potesse in qualche modo dare vita e corpo ad una speranza, siete stati dei grulli a raccogliere le firme per uscire dall'euro, siete stati dei grulli a chiedere l'acqua pubblica, a fare grandi battaglie, perché poi bastava soltanto un ministero, una poltrona, una logica di palazzo. Quando Grillo si impunta insieme a Di Maio, Bonafede, i governisti insomma, quando si impuntano su una cosa che hanno già deciso e vorrò vedere laddove, ove mai, ecco, capitasse la vittoria di chi spera di non entrare nel governo, che cosa farebbero questi signori? Secondo me entrerebbero lo stesso, perché l'esito è già scritto non tanto nella piattaforma Rousseau, è già scritto nella testa di Grillo, di Di Maio e soci, ma quello che viene da capire una volta per sempre è che le ragioni loro, le ragioni del potere prevalgono, cioè quello che ci sta dicendo, il messaggio sottinteso di Grillo è, signori, vanno bene tutti, vanno bene tutti purché noi possiamo stare qui, perché finita questa legislatura non ce n'è più per nessuno. Il messaggio sottinteso di questa domanda idiota è, noi faremo fare a Draghi quello che noi facciamo già con voi, cioè abbiamo già deciso, ecco perché tutto è pericoloso, ecco perché non c'è una resistenza, Draghi è già espressione dell'elite, Draghi è espressione di un mondo finanziario che ha schiacciato i cittadini e lo farà ancora quando mi dicono sarà diverso da Draghi, cioè sarà diverso da Monti perché non farà l'austerity, attenti, perché il casino dei derivati, la tossicità dei derivati per esempio non è che l'hai capita subito, te l'hanno nascosta, l'hai capita dopo, quando c'era da pagare, il prezzo non te lo daranno subito, poi quindi si sommeranno due problemi, uno è il problema dell'inganno, di un inganno che si scoprirà con il tempo e nel tempo e poi c'è comunque l'inganno di dare apparentemente una soluzione ai problemi che sono sempre gli stessi, perché guardate che il problema dei locali, dei ristoranti, delle palestre, dei negozi, della piccolissima impresa, quello è uguale, era uguale un mese fa e sarà uguale tra un mese, ma loro cosa fanno? Devono difendere il privilegio, perché a questo punto è il privilegio di stare dentro i palazzi, guai a uscire dai palazzi, il quesito di Rousseau è un'offesa ad una militanza che ci ha creduto, è una offesa, è un gesto barbarico da parte di Grillo e da parte dei governisti che vi sta offendendo, coloro che hanno fatto i banchetti e sono stati traditi ancora una volta dovrebbero prendere le mail e bombardare di scritte delle peggiori possibili, io penso e spero che ci sia una riscossa verso tutti quei parlamentari che avete portato lì e che stanno tradendo nella maniera più vergognosa, andate sotto casa, citofonate, quando li vedete in giro offendeteli, fatele una pernacchia, a cominciare da Beppe Grillo, perché ragazzi quello che stiamo vedendo è lo svilimento di un sogno, lo svilimento di una speranza, ma ci pensate, una domanda, una domanda che dovrebbe tenere appeso Draghi, ma voi pensate veramente che Draghi stia appeso alla domanda e alla risposta del quesito su Rousseau? Ma Pippi Rimerla ragazzi, ma per piacere, ma non funziona così, Draghi ha spalle ben più coperte, ma figurati, qualsiasi sarà il risultato di Rousseau, la decisione è già presa, è già presa, forse qualcuno dentro il movimento uscirà da questo tormento e magari si asterrà, che poi ripeto, ma l'astensione quando tu hai Draghi davanti l'astensione non ha senso, devi decidere da che parte stare, non puoi sempre stare nel mezzo e va bene. Quindi ragazzi io trovo imbarazzante questa giornata che sarà spesa a commentare Rousseau. Su Rousseau c'è il tradimento più plateale, nell'ennesima domanda stupida, c'è il tradimento plateale di quello che è un po' stato il movimentismo, il movimento non c'è più, è peggio di un partito, è ormai il regno di pochi, il feudo di pochi e purtroppo mi dispiace perché vanifica lo sforzo, il sacrificio, la gratuità di tante persone per bene che ci avevano creduto.